Siamo al ridosso del 25 aprile, perché è così difficile all'interno della centrodestra, anche all'interno di Fratelli d'Italia, definirsi antifascisti? Intanto non è assolutamente difficile, oggi noi abbiamo ricordato le parole di Onna del Presidente Berlusconi, che fu un segno importantissimo proprio di riconoscimento di un pezzo della storia del nostro paese, però anche qui, poi ci domandiamo perché la gente non va più a votare, se ogni volta ritorniamo a dire che c'è il pericolo del fascismo, quando ricordiamo la nostra storia, ricordiamo a dire che c'è il monopolio dell'informazione etc., e non invece riconosciamo la nostra storia, la forza di quello che è accaduto, la liberazione dalla dittatura e dal fascismo nel 25 aprile e la nascita della democrazia, noi non capiamo qual è il nostro compito, non si prendono più voti descrivendo e continuando a raccontare il ritorno al passato, che è un passato e che è stato giudicato con forza da tutti noi, siamo tutti antifascisti.